Al Centro Ester, quartiere Barra di Napoli, è stata disputata quest'oggi una gara amichevole tra la nostra Under 15 e quella della scuola calcio ASD Centro Ester. Il presidente Andrea Langella, nell'ambito di un percorso programmato, coadiuvato, la responsabile del settore giovanile Sabi Mainolfi, ha assistito all'incontro accompagnato dal vicepresidente e amministratore unico, l'ingegnere Vincenzo Delia, presente anche Mr. Younes Sheriff, responsabile SEO della Costituenda Matrix Soccer Academy di Tanta, Egitto, con il quale la società Juve Stabia sta avviando la costituzione di un'accademy italo-egiziana per la formazione e la valorizzazione di giovani calciatori. Queste le parole del presidente Andrea Langella. Oggi ci trovo qui al centro Ester di Barra, un bellissimo centro organizzato, strutturato e nell'occasione mi trovo qui sempre nell'ambito del nostro progetto industriale che è finalizzato alla crescita e alla grande sensibilità da parte mia al settore giovanile della Juve Stabia. Nell'ambito di questo progetto oggi tutto questo che è stato detto sta diventando realtà. Oggi ci troviamo qui con il nostro partner che sta cercando di concretizzare un accordo con noi per un'accademy e uno scambio di know-how sul settore giovanile, un egiziano, il mister dottore ingegnere Youssef Sheriff che sta qui, ha fatto il giro dello Stadio Menti, ha visto l'allenamento della squadra, della prima squadra stamattina. Ora ci siamo qui nell'occasione di una partita col settore giovanile. Sta diciamo visionando tutto il nostro know-how per far uscire un inizio di un grande progetto sempre di partenariato per il settore giovanile. Il vicepresidente, l'ingegnere Vincenzo Delia, aggiunge quelli che sono i dettagli di questa organizzazione della nuova academy che sta nascendo in Egitto. Ingegnere, academy italo-egiziana, come nasce l'idea? L'idea nasce da un mio incontro, direi casuale, con un manager americano di origine egiziana che ha inteso, attraverso le notizie che gli ho dato sulla realtà Juve Stabia e sulla realtà di quello che stavamo facendo, il nuovo corso della nostra società, ha inteso approfondire l'argomento. Mi ha parlato di un suo progetto estremamente interessante, un progetto che sarà realizzato nell'area di Tanta, sul delta del Nilo, a poca distanza dal Cairo, dove questo imprenditore americano sta realizzando un complesso polisportivo all'interno del quale saranno create anche delle scuole calcio. La scuola calcio sarà l'academy del Matrix Soccer Club di Tanta e sarà portata avanti su una piattaforma condivisa con Juve Stabia. In sostanza Juve Stabia darà il proprio know-how, la propria tecnologia e le proprie informazioni a questo gruppo nascente di giocatori. Ricordo che Tanta è la città nella quale è nato Salah e quindi con una tradizione sportivamente e calcisticamente parlando di grande importanza e insieme a loro porteremo avanti questo progetto. Il progetto è lungimirante, non si fermerà soltanto all'academy, non si fermerà soltanto allo scambio tra i giovani, ma sarà anche finalizzato a fare in modo che vi siano degli scambi dei campus di reciprocità tra gli atleti egiziani e quelli italiani della Juve Stabia. Quanto è importante esportare il marchio Juve Stabia anche all'estero? Il marchio Juve Stabia è un marchio che è ben consolidato sul territorio nazionale, anche perché oramai siamo approdati dalla categoria B che tratterremo con tutte le nostre forze. è evidente che gli stabiesi sono presenti in tutto il mondo e quindi abbiamo un seguito internazionale. L'Egitto nasce da un incontro casuale, però l'Egitto è un territorio di estremo interesse per noi perché ha ancora delle radici tanto profonde di sportività, di calcio e quindi è interessato a promuovere questa iniziativa con noi. E poi gli sviluppi sono quelli che vedremo. Per il momento stiamo investendo del nostro tempo. Prossimamente saremo attanta per visitare questo nuovo centro sportivo e per cominciare a dare i primi segnali, le prime indicazioni per costruire queste nuove scuole calci in territorio egiziano. A chiudere, Mr. Jules Sherif. How did you feel in the US Tavia environment? What impressed your mood? I'm very glad and looking forward for the today for the announcement of the cooperation between Juvis Tavia and Matrix Club Egypt located in Tanta, the city of Salah, where Salah was born. We're looking forward not only in cooperation in the academy, but also in exchanging players, players between Cairo and Egypt and Italy. We're looking forward to exchanging information, exchanging training activities. I feel that this cooperation will go forward to many more activities. How was the idea of creating this academy board? The idea became through the conference that was held with the Italian confederate in Napoli and Egyptian government. We were presented there by Egypt and Mr. Vinicius was presented by Italy. So we talked about through Matrix and Juvis Tavia. You know, Egyptians are Italian fans. We have similar cultures. We have, we are, all mediterranean countries are near. So we decided to start a joint venture agreement and we signed it today between Matrix and Juvis Tavia to cooperate and benefit from both experience in the field. You know, Italy has ancient experience in football. Italy is the first or second World Cup leader from 1934, I think. So I think we will benefit a lot from this agreement, both we and Juvis Tavia. Tell me, Forza Juvis Tavia. Forza Juvis Tavia. And Matrix Club. Let's look at imagination. Please play with Caption Bootcamp. PIROTECNICA NAZIONALE PIROTECNICA NAZIONALE